Vieni, vieni dietro di me, che se ne vieni fuori, vieni fuori nel video, ok, guarda dove ti porto, vieni in bagno, non ti faccio vedere prima, grazie, la camera delle bimbe, brava, le bimbe, la camera matrimoniale, bravo, poi torniamo indietro, torniamo indietro, Sì, sì, ma tanto questa l'ho chiusa. Grazie.